perché proprio come è scritto nei cartelloni pieni di colori e di vita che tutti gli italiani appendono al loro balcone andrà tutto bene ciascuno di voi ne è assolutamente certo ciao ragazzi a mercoledì ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono Giorret e oggi parliamo del grande fratello vip brutta notizia per i fans chiude in anticipo chiusura anticipata per il grande fratello vip 2020 l'emergenza coronavirus ha spinto infatti mediaset a optare per una riduzione della durata del reality show la finale fino a oggi era prevista fino al 27 aprile e secondo le ultime indiscrezioni probabilmente arriverà fino a lunedì 8 aprile la notizia che era già nell'aria da qualche giorno è stata comunicata poco fa agli inquilini con un comunicato lento in casa ecco che cosa hanno letto il concorrente del grande fratello la situazione in cui siamo in italia in altri paesi è unica incredibile è mai accaduta prima la gente vive questo periodo in mille modi diversi c'è preoccupazione ma anche senso di responsabilità e tanta voglia di condividere emozioni d'ora in poi vi daremo conto di tutto questo dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari uno a uno vi faremo vedere cosa fanno gli italiani a cui portate un po di leggerezza e ogni giorno vi daremo nuove informazioni vi comunichiamo che il grande fratello ha deciso di arrivare fino all'inizio di aprile tornando alla sua configurazione iniziale con questo comunicato letto in casa i vip sono stati poi messi in contatto uno a uno con i propri familiari con questo concluso il video se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da joe red ciao Grazie a tutti.